La preghiera non è un'anestesia per stare più tranquilli pensando soltanto all'io, ma è una supplica per chiedere il pane per tutti i poveri del mondo. Con queste parole Francesco all'udienza generale in aula Paolo VI ha proseguito le catechesi sul Padre Nostro. Cristo ha detto non vuole ipocrisia, la vera preghiera è quella visibile solo a Dio che rifugge dalla falsità. Essa però non scade mai nell'intimismo, tant'è che nella preghiera che Gesù ci ha insegnato spicca un'assenza impressionante, la parola io. Non c'è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e sorelle, il noi. Siamo in comunità, siamo fratelli e sorelle, siamo un popolo che prega, noi. Una volta un cappellano di un carcere mi ha fatto una domanda, mi dica padre, quale è la parola contraria all'io? Io in Genuo ho detto tu, quello è l'inizio della guerra, la parola opposta all'io è noi, dove c'è la pace, tutti insieme. Grazie. 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 Grazie.